Ciao a tutti ragazzi del vostro Apollo Spalder 7. Oggi volevo fare un video un po' diverso dal solito, visto le inattività dei campionati. Volevo proporvi la mia top 11 dei giocatori spallini di sempre. In questa top ho scelto giocatori che per motivi diversi si sono distinti durante la loro carriera nella SPAL, anche se parziale. Iniziamo subito. In porta ovviamente non potevo che mettere Ottavio Bugatti, considerato da tutti il miglior portiere della storia spallina. In carriera ha vestito le maglie di Seregno, SPAL, Napoli e Inter, nonché della nazionale italiana. Arrivato da esordiente alla SPAL durante la sua prima stagione in A, nel 1951, si rivela una vera e propria sorpresa, sigilando la porta per ben due stagioni, compiendo numerosi miracoli. La sua cessione al Napoli per 55 milioni di lire all'epoca rappresentò il record di valutazione per un portiere in Italia. In seguito vincerà due scudetti e una Coppa dei Campioni con l'Inter di Herrera. Tornerà alla SPAL nel 76, in veste di responsabile tecnico. Passiamo ora ai 4 di difesa. E per primo ho scelto il fedelissimo Gianfranco Pozao, che dal 1958 collezionò con la maglia bianco-azzurra 228 presenze, quasi tutte in Serie A, intervallate da un'esperienza alla Juventus. Era soprannominato il Tigre, per la velocità e l'aggressività che impegnava durante le partite. E' il terzo giocatore per numero di presenze nella storia spallina. Il secondo difensore è Saul Malatrasi, uno dei difensori nazionali più forti degli anni 60. Nella stagione 58-59 disputò con la SPAL 24 partite e si rivelò in grado di ricoprire magistralmente diversi ruoli nella fase difensiva, prima di essere ceduto a fine stagione alla Fiorentina. Tornerà nel 1970, prima come giocatore per due stagioni Serie C, poi come allenatore del settore giovanile. Passiamo adesso ad Armando Picchi. Ebbene sì, il libero di caratura internazionale che ha vinto tutto con la grande Inter di Herrera ha avuto trascorsi anche nella SPAL. Per la precisione 27 partite tra il 59 e il 60. E con ogni probabilità il giocatore con trascorsi tra i bianco-azzurri ad aver vinto più in campo internazionale, in quanto uno dei difensori più forti della storia, prima della sua purtroppo prematura scomparsa a 36 anni. Completiamo la difesa titolare con Michele Paramatti. Anche egli è stato un altro grande giocatore lanciato dalla SPAL nel grande calcio. Per lui, 151 presenze in 7 anni con la nostra maglia, nel 1995 passerà al Bologna, dove rimarrà per 5 anni e successivamente disputerà due stagioni alla Juventus. Passiamo adesso al centrocampo. Il primo centrocampista a scelto è Osvaldo Bagnoli, motorino instancabile in mezzo al campo dal 1964-65. Nel quale la SPAL riconquista la Serie A. L'anno successivo segnò il gol salvezza a Brescia. Rimase fino al 67, anno in cui passò all'Udinese, dopo 93 presenze, e nel 1985 vincerà uno storico scudetto con il Verona, da allenatore. Andiamo avanti con Giuseppe Brescia. Anche lui nella classifica all-time per presenze in quinta posizione con 229 presenze, la maggior parte da capitano. Tutto fare, leader silenzioso, non particolarmente appariscente, ma assolutamente indispensabile e sempre al servizio della squadra. Allenerà le giovanili nel 2008 per tre anni. Il centrocampo termina con la nomina di Ferdinando Donati, che negli anni 70 ha disputato 181 partite con la casacca bianco-azzurra, vincendo per due volte la Serie C nelle vesti di vero e proprio assistman. E si incastrava perfettamente nel gioco dell'allora allenatore Caciagli. Passò anche alla Ternana, dove disputò diversi campionati di Serie A, ma prima di morire dichiarò seppellite il mio cuore al Paolo Mazza. Apriamo adesso il tridente d'attacco con il capocannoniere della storia spallina, Franco Pezzato. 81 gol in 241 presenze, in 19 anni di spall in tre tappe, dal 1965 in poi. Rapace d'area, segna praticamente da ogni posizione e diventa per presto l'idolo della tifoseria, sempre al posto giusto, al momento giusto. Proseguiamo con Alberto Fontanesi, che fu, insieme a Ottavio Bugatti, uno dei primi gioielli lanciati dalla spalla in Serie A. Arriverà dalla Bondenese nel 1950, vince la B e disputa due campionati di Serie A da avere propria rivelazione, prima di essere ceduto alla Lazio. Durante la sua permanenza a Ferrara, partecipò alle Olimpiadi di Helsinki, con la nazionale italiana insieme a Bugatti, segnando anche una rete. Chiudiamo la formazione titolare con il giocatore più rappresentativo della storia spallina. E chi se non lui? Oscar Masei, argentino classe 34, ha indossato le maglie del Rosario Central, Inter e Triestina, prima di approdare a Ferrara. Semplicemente il più grande, riabilitato dalla spalla dopo un lungo infortunio, subito all'Inter, diventa il giocatore spallino con più presenza nella spalla. 244. 52 gol fatti, in nove anni. Trovò anche qualche presenza in nazionale italiana. Nella sua carriera ricoprì diversi ruoli, da punta a regista, incantando Ferrara durante tutta la sua permanenza. L'allenatore di questa top non poteva che essere G.B. Fabri, allenatore che nasce e cresce prima da calciatore a Ferrara, che allenerà per una breve parentesi, e allenerà poi il Vicenza di Paolo Rossi nella storica annata del secondo posto in Serie A, prima di tornare alla SPAL per una storica doppia promozione dalla C2 alla Serie B. A lui è intitolato il centro sportivo della SPAL. Il suo vice, ovviamente, è Leonardo Semplici, che ha scritto una pagina contemporanea della storia spallina che verrà ricordata per sempre. Arrivato nel 2015, porterà la SPAL a uno storico doppio salto fino alla massima divisione e a due bellissime salvezze. Passiamo adesso alla panchina, iniziando dal secondo e dal terzo portiere, dei quali ho scelto Andrea Pirobon e Riccardo Cervellati. L'immortale portiere scuola Cittadella ha militato per otto anni della sua lunghissima carriera nella SPAL, diventando il secondo di sempre per presenze, mentre Cervellati rimarrà per 114 gare prima di passare a Centese e Bologna. Luigi Pasetti, Andrea Mangoni e Roberto Ranzani sono le tre riserve di difesa. Pasetti nasce e cresce nella SPAL, 111 partite prima di indossare le maglie di Juventus e Palermo. Mangoni chiuse la sua carriera da calciatore alla SPAL con 74 presenze, prima di tornare come DS, un po' come fece Ranzani, che dopo la sua carriera da calciatore negli anni 70 divenne prima DS e poi presidente della SPAL nel 2012. A centrocampo, nomi illustri del panorama calcistico nostrano, del calibro di Fabio Capello, Luigi Del Neri e Andrea Messercy. I primi due, dopo essere stati lanciati dalla SPAL, intraprenderanno delle eccellenti carriere da allenatori di calibro internazionale. Messercy seguì un'altra strada, ma rimane ancora tuttora a volare nel cuore dei tifosi bianco-azzurri. Infine l'attacco, composto tra Giuseppe Campione, Giorgio Zamuner ed Emanuele Cancellato. A Campione venne intitolata la Curva Ovest dopo la sua prematura scomparsa. Di Giorgio Zamuner resterà impressa nella storia l'immagine della sua punizione vincente a Bologna, durante i play-off di Serie C del 1994, mentre il fenomeno cancellato sarà il quarto bomber di sempre della storia spallina. Allora, piaciuta quest'ottopundici? Chi avreste messo voi a differenza mia? Fatemelo sapere nei commenti e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. E sempre forza spall!